Non stai parte della Costituzione delle leggi e di adentare con disciplina e dolore tutti i volenti del Stato, per la giudizia della patria e la stavolta delle diverse istituzioni. Inno d'Italia e bandiera tricolore al centro del cerimoniale alla scuola allievi carabiniere Eugenio Frate di Campobasso, conferimento sull'enne degli alamari e giuramento degli allievi carabinieri del 143 corso formativo primo ciclo intitolato alla memoria del carabiniere Domenico Bondi. 460 i giovani che sono diventati ufficialmente carabinieri provenienti non solo dal Molise ma da tutto il centro-sud Italia, amate e rispettate il tricolore, pillastro su cui si poggia la Repubblica Italiana. Queste le parole del generale corpo d'armata dei carabinieri Rosario Aiosa che ha diretto la cerimonia. In un segno altamente simbolico una squadra composta da dieci allievi rappresentativi di ciascuno dei dieci plotoni delle due compagnie ha ricevuto gli alamari dalle massime autorità politiche, civili e militari della regione Molise. Tutti gli altri allievi lo hanno ricevuto dai genitori, emozione negli occhi delle famiglie che hanno riempito di calore la caserma Eugenio Frate. Oggi siete pienamente carabinieri, un momento che un militare non dimentica mai, le parole del comandante generale dell'arma dei carabinieri Teo Luzzi. Il bisogno primario dei cittadini italiani in questo momento è la sicurezza, ha ricordato a tutti, servite con disciplina e onore la Repubblica Italiana. Il messaggio è che gli italiani li aspettano perché gli italiani hanno bisogno di sicurezza e le nuove linfe, le nuove leve sono fondamentali per garantire questa sicurezza. Dall'altro lato devono operare con serenità in considerazione del fatto che l'arma è un'organizzazione ultra secolare che protegge i propri dipendenti, che li sostiene e li anima per conseguire quella che è la nostra funzione, vivere tra la gente e vivere per la gente. Scoperto il murales dedicato al generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Sul murales rappresentati anche i carabinieri in scene tipiche del loro lavoro sul territorio e il castello Monforte di Campobasso. L'opera è stata ideata dallo studente Joshua Camino. C'è tra la gente l' cafeteria in the future.